Tanto è importante la sinergia che ormai è consolidata con forze italiane, è sempre vicino nei momenti più significativi per il nostro territorio. Per noi poter anche oggi celebrare un momento significativo in onore di Padre Catanoso è un po' di grande soddisfazione, perché vorrei ricordare a tutti che Padre Catanoso è il padrono della nostra provincia. Peraltro io mi sento particolarmente legato per aver ricevuto un premio importante che è il premio Padre Catanoso a Corriere di San Lorenzo e quindi mi sento ancora di più motivato per portare avanti anche il suo messaggio che era un messaggio di vicinanza ai più deboli, un messaggio di vicinanza ai territori ed è una traggia importante che noi intendiamo essere migliore.